Salus a 12 ottobre 2011. Non vi è alcun dubbio, che i vostri poteri creativi stanno aprendo delle strade verso l'ascensione, quanto mai è importanti, e che questo sta accelerando i cambiamenti. Tutto ciò avviene a diversi livelli, portando avanti numerosi cambiamenti preliminari, che preparano quelli più importanti che seguiranno. Tutto procede bene e gli oscuri hanno ben recepito il messaggio, che noi non intendiamo aspettare che si facciano da parte, e che provvederemo a rimuovere chiunque ostacoli i nostri sforzi per mettere i popoli della Terra in grado di iniziare appieno il processo d'ascensione. Molto è già stato compiuto e sono state gettate le basi per la vittoria, su cui stiamo ora lavorando. Adesso, ciascun individuo è chiamato a contribuire, concentrandosi sulla luce e tutto ciò che è positivo. Anche se non siete sufficientemente informati su quanto sta accadendo, ne sapete abbastanza da poter proiettare qualunque cosa visualizzate, intesa a manifestare l'età dell'oro. Concepite con l'immaginazione la felicità, che seguirà la vostra liberazione dai vincoli che vi hanno impedito di progredire e il vostro ritorno a esseri sovrani. Percepite la nuova libertà e l'eliminazione di quanto ha finora limitato i vostri movimenti, sapendo che, col tempo, sarete in grado di viaggiare in qualsiasi parte del mondo, grazie a nuove tecnologie, che rendono inesistenti le distanze. La velocità sarà essenziale e si otterrà usando l'energia gratuita, che nell'universo abbonda. Talvolta, lungo il percorso ci saranno periodi di incertezze intanto che il nuovo sostituisce il vecchio, dovuti al fatto che alcune cose, come i cambiamenti finanziari, non possono avvenire da un giorno all'altro. Altrettanti dicasi per eventuali problemi di distribuzione riguardanti la fornitura di prodotti alimentari e le carenze, che potrebbero verificarsi in alcune zone. Non è, tuttavia, il caso di preoccuparsi perché le nostre strutture sono in grado di superare questi problemi e fare in modo, che tutto rientri quanto prima nella normalità. Chi vive in zone isolate o lontane, avrà probabilmente qualche problema, ma intuitivamente saprete come prepararvi a queste eventualità. Accenniamo a tali possibilità affinché possiate rifletterci con largo anticipo. Naturalmente, non appena avremo libero accesso ai media, faremo in modo, che siate perfettamente informati su tutto quanto avviene attorno a voi. Al momento, speriamo di avervi aiutato nel far sì che i primi cambiamenti avvengano entro la fine dell'anno. Per molti di voi è, comunque, evidente che dobbiamo dare una spinta, perché c'è molto da fare in tempi sempre più ristretti. Possiamo farcela, ma dobbiamo tener conto dell'impatto su di voi, perché molta gente è tuttora all'oscuro di quanto l'esistenza cambierà. Le novità saranno stupende, non di meno farà un certo effetto trovarsi in una realtà completamente stravolta. A riguardo, gli operatori di luce possono essere di grande aiuto, spiegando quel che sta succedendo. È importante, che la gente capisca che il ciclo deve finire, ma che è anche il modo per passare su un altro percorso, che vi porta verso le dimensioni più elevate. Carissimi, siamo veramente fieri del vostro impegno nel collaborare con noi e insieme faremo grandi progressi, nonostante le resistenze. Sappiamo che un numero ancora maggiore di voi è ansioso di offrire i propri servigi a noi a Madre Terra e, infine, questa possibilità sarà loro data. Siate certi, che nel piano fu sempre prevista la vostra partecipazione ai nostri progetti e, di fatto, vi abbiamo sempre spronato a farlo. Il nostro ruolo non fu mai concepito come a sé stante e vi ricordiamo anche che si tratta della vostra terra, e che è vostra responsabilità a rimettere tutto in buono stato. Noi vi assisteremo in ogni caso, perché il compito è ben superiore alle vostre attuali capacità. Potremmo quasi prenderci un attimo di respiro e lasciarvi godere le settimane venture, quando sarà chiaro, che tutto si sta avviando verso qualche tipo di annunzio. Chi tra voi legge fonti di informazioni attendibili come quelle di David Wilcock su Internet, tanto per nominarne una tralettante, è in grado di seguire gli sviluppi, virtualmente in tempo reale. Dovete, non di meno, usare sempre il vostro discernimento su quanto accettare, perché la disinformazione è tuttora mescolata a ragguagli veritieri. In ogni modo, siete alla soglia di un periodo molto appassionante e a compimento di quanto desiderate. Il 2012 si avvicina rapidamente e oseremo dire che passerà in una raffica di avvenimenti, che indicheranno chiaramente la fine della dualità e l'inizio di una nuova era pervasa dalla luce. È il momento di rallegrarsi di quanto sta avvenendo considerando, al di là dei mutamenti immediati, i risultati attesi. Sapete che la pulizia è assolutamente necessaria, affinché il nuovo possa apparire. Ovviamente, questo può comportare spiacevoli conseguenze per le persone che, inevitabilmente, ne saranno coinvolte. Per alcuni ci sono motivi karmici e, se credete sia il vostro caso, accettate che probabilmente si tratta di una lezione da imparare. Spesso è qualcosa che non ha nulla a che vedere direttamente con la vita presente, ma che si trascina da un'esistenza precedente. La gente tende a chiedersi cosa mai può aver fatto per meritarsi tutto ciò, ma non dovete pensare a una qualche punizione. Ogni vita è un'incessante esperienza e ricordate che esiste anche un buon karma, che attirate a voi con pensieri e azioni. Mantenetevi sempre al corrente su quanto accade attorno a voi, anche non siete necessariamente consapevoli dei motivi. Il fatto stesso di comprendere il processo di ascensione vi metterà, comunque, in grado di accettare i cambiamenti necessari, che annunzeranno l'arrivo di tutto quello che vi consentirà di elevarvi. Anche se non potete vedere la crescita dei livelli di coscienza, potete percepire il grado più elevato dell'energia, che vi circonda. Con l'avvento dell'11 novembre 11, percepirete un mutamento ancor maggiore, e allora saprete che è stato veramente compiuto un grande balzo in avanti. Io sono il siriano Salusa e noi stiamo intensificando le attività attorno alla terra allo scopo di mettere sotto controllo gli oscuri. La loro capacità di causare guai è stata decurtata, e stanno imparando che non intendiamo tollerare ulteriori assurdità da parte loro. Adesso sono in stato di shock, perché si credevano invincibili e la loro arroganza li ha condotti in un vicolo cieco. La luce impera e continua a spargersi ovunque sulla terra. Abbiamo vinto la battaglia e desideriamo aiutarvi a instaurare un nuovo tipo di governo su tutto il pianeta, fondato sulla luce e l'amore per tutti gli esseri. Grazie, Salusa. Mike Quinsey Traduzione Costanza 2003